Un atto notarile da ben 11,5 milioni di euro con decine di passaggi di proprietà tra comune Ater si è concluso così il lungo iter burocratico per il protocollo di Portaleoni. L'azienda dell'avvocato Isidoro Isidori ha ceduto al comune l'area dove si trovavano le case popolari, lasceranno spazio a parcheggi. L'ente a sua volta ha trasferito all'Ater 46 appartamenti nuovi o ristrutturati. Un'operazione immensa questa che chiude una vicenda che era al palo da tempo. Tantissimi gli uffici che hanno lavorato senza sosta una grande sinergia con l'amministrazione comunale e l'Ater. È stato un iter complesso intanto per la valorizzazione dell'area. Siamo dovuti arrivare, siamo riusciti ad arrivare a questo importo grazie alla comprensione che il comune ha avuto circa i valori che dovevano essere posti in campo. E cioè valorizzazione OMI sia per la proprietà Ater sia per le proprietà del comune. Abbiamo acquisito 46 appartamenti per 120 metri quadrati d'appartamento e questo ci permetterà una gestione unitaria in un unico immobile e incassi molto importanti per l'Ater. Il comune dal canto su avrà subito 90 posti auto ma so che sono in procinto di sviluppare anche parcheggi sotterranei nell'area. Per cui un guadagno oggettivo per l'intera collettività. Nel frattempo gli inquilini del complesso di Porta Leoni si stanno ricollocando in abitazioni donne. Alcune famiglie già sono nei nuovi appartamenti, a breve ci saranno i bandi per l'assegnazione agli eventi diritto. L'aspetto importante però è che cambia il concetto di edilizia residenziale pubblica. Questo è l'impronta diciamo così della mia amministrazione. Questo è un esempio ma arriveranno presto anche gli immobili che sono in corso di ristrutturazione con il super bonus e quelli di cui agli appalti per 212 milioni che sono prossimi all'apertura delle buste perché l'idea è questa, le case popolari non sono più dei luoghi relitti dove lasciare persone con difficoltà ma sono degli immobili che non solo devono integrarsi nell'ambito urbano ma che addirittura diventano un motivo di orgoglio e di richiesta di poter andare ad abitare in quei luoghi. Ridare dignità alle persone è l'idea dell'Ater oggi.